Per vedere come Marisa ha il futuro Si eh? Ma com'è la bruschetta al tartufo? Eh buono Buono? Era il sapore che pensavi? Guarda, quel simbolo? Per fare veloce e lento Uguale a Paderman Ecco, ma i nomi diciamo, come ti chiami tu? Samuele Embriani Ecco, Emanuele? No No Samuele, e invece lei? Sole Sole? Ecco, ma gli gnocchi chi li mangia? Noi Noi, ecco Tutti? Tutti? Tutti 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 Ti vedevo di che io ci starei mezz'ora con voi gli altri a fare viaggiare Noi, non gliele dite il tuo nome Sole? 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 Ottaviani Forte, forte Eh? E' le Ottaviani Ottaviani Eh beh, tante le volte Poi dopo ci ricercano Noi abbiamo il seggiolone Il seggiolone Ma tu quanti anni hai? Tre anni e mezzo Tre anni e mezzo E complimenti, hai invece Sole? Tre E mezzo Tre anni e mezzo come Manuel e io E come Manuel e io, certo Eh, mi pare giusto insomma Io c'ho Sì? Anche io ho un Damiano che viene in classe con me Ecco, tu vai a scuolina giustamente, no? A scuola materna A scuola materna, scusa perché E io sono un tulipano Un tulipano? In che senso un tulipano? Cioè a scuola vi hanno diviso tulipani Sì Rosa Gerbera Sì Ecco, tu sei un tulipano Sei della squadra del tulipano Eh, va bene Vogliamo dire qualcosa sulla situazione politica attuale? Siete preoccupati per la pensione, no? Eh? Tu sei preoccupato per la pensione, non credo insomma Eh, no, non sono preoccupato Ma io me l'immaginavo insomma, eh Va bene? Grazie, vogliamo fare gli auguri di Buon Natale a tutti? Siamo Eh Siamo Sai che anch'io ho ricordato tutte le stelline ai cuori? Io, e io ho preparatone per me Occhio che ci prova, eh Io vorrei ritenere, ma Le donne, le donne cominciano così, eh Con la dolcezza delle stelline E poi tantino si piono tutto il braccio Occhio, eh Samuele io Samuele avvisato Samuele salvato, eh Auguri di Buon Natale Auguri di Buon Natale A tutti A tutti A tutti A tutti Occhio di Buon Natale